Un importante incontro su un tema ancora più importante, il Radon. Claudio Scigliano, avete organizzato questo momento formativo e di aggiornamento molto importante. Sì, è stato molto interessante perché i relatori sono molto preparati. Il dottor Moroni è un esperto nel campo del Radon, l'avvocato Falanga è un esperto per quanto riguarda la normativa. Quindi entrambi ci hanno illustrato un po' lo stato dei luoghi e che cosa si potrebbe e dovrebbe fare per riuscire a garantire luoghi di lavoro salubri e non andare incontro a contravvenzioni. Come ConfCommercio è uno dei tanti eventi che cercate di portare sul territorio per dare contributo importante alla crescita di tutto il movimento. Certo, queste sono le iniziative che poi contano e servono a una crescita del territorio, a renderlo sicuro e a dare la possibilità ai nostri associati e agli imprenditori dell'isola d'Ischia di potersi avvalire di strumenti economicamente vantaggiosi per mettersi in regola e la massima informazione. Abbiamo ritenuto con Federe Alberghi condurre questo primo incontro su questa tematica. La regione è presente, è venuta ad ascoltare per capire cosa si possa fare per migliorare sul territorio e è nella presenza dell'onorevole Mocerino che ringrazio per essere passato, ringrazio la Villa Sorriso per averci accolto e i relatori per aver impegnato il loro tempo oggi qua a fuori d'Ischia. Luca D'Ambra, ovviamente Federe Alberghi è parte integrante e per tutte le strutture alberghiere è un tema fondamentale. Assolutamente, noi da anni anche con Federe Alberghi Terme siamo in un certo senso obbligati anche ad effettuare delle rilevazioni che facciamo, poi tra l'altro con gli studi del Federico II dell'Università, quindi noi abbiamo un accordo sul quale lavoriamo già da anni. Oggi come oggi con questa legge che poi è europea parte un'analisi molto più approfondita del campo che presenta appunto l'esigenza di andare ben oltre il rilevamento che si fa oggi. Chiaro che noi come Federe Alberghi, quindi come operatori nel campo privato, cerchiamo anche di capire nel rispetto dei dipendenti e della salute di noi tutti come comunque non aggravare ulteriormente ulteriori controlli che comunque già ci affliggono costantemente e giornalmente. Onorevole, la Regione ci tiene particolarmente a questo tema, spieghiamo anche proprio concretamente cosa state cercando di fare. È il motivo per cui siamo qui stamattina, perché in collaborazione con ConfCommercio e Federalberghi Isolane proviamo a dare un contributo nel senso del miglioramento della normativa regionale che effettivamente come è venuto fuori dalle risultanze di questo incontro è sicuramente migliorabile, perfettibile, deve esserlo. Quindi le risultanze di questo incontro saranno poi oggetto di approfondimento su base regionale per poter produrre poi, come dire, elementi normativi che riescono a migliorare la legge in questione. Dottore, sintetizzando, quali sono anche poi i consigli che si possono dare ovviamente in pochissimi minuti su questo tema? I consigli abbiamo detto oltre a quelli da dare alle attività, agli esercenti, sono quelli di sviluppare il famoso sportello di cui parlavo prima anche per i privati. Quindi in questo ci aiuterà molto la collaborazione col professor Moroni, che a livello nazionale è uno degli apici, a mio parere, e come dicevamo prima con l'avvocato Falanga, che già ha iniziato una serie di relazioni con i Lloyd di Londra per lo sviluppo di una polizza che vada a coprire le aziende qualora dovessero scoprire di dover mettere in atto dei piani di mitigazione. Quindi un'azienda assicurata a priori significa che non si dovrà sobbarcare i due, trecentomila euro, quattrocentomila euro per mettere in piedi un piano di miglioramento. E questo grazie all'avvocato Falanga e ai rapporti diretti con i Lloyd di Londra. Grazie, insomma, faremo quanto prima per l'attivazione di questo sportello. Ringrazio Federalberghi, ringrazio la ConfCommercio che ci ha dato questa opportunità e l'onoribile che ci ha onorato della presenza oltre all'avvocato e al professor Moroni.